3 intervento Gli attuali 3 intervento 3 interventi 5 interventi 3 interventi Allora, facci il login come se tu ti posti entrando su facebook Metti l'e-mail e la password E entro Nel mio Poi si può fare di rimanere logato e dopo di che si può mettere tipo apri permetti di aprire il cancello oppure l'ho dato per uscire col cellulare stessa cosa si collega il sito a quello che lo può muovere sono al sito hai visto hai fatto l'appletto con il cellulare hai visto la casetta? troviamo che cos'è? Arduino Uno è collegato con un servo motore ma non ha un servo con un servo motore con un servo motore con un Arduino possiamo montare anche la casa nostra se il Markoffer ci vende i diritti se il software ho capito quale router stai usando per mettere una strutturetta e nooo con il tablet chiudi la casetta? non è un servo motore che è super mettere una strutturetta si vuoi che sarei pensando in questo modo per ragazare le condividere io Grazie a tutti. Grazie a tutti.